Un buon punteggio per quanto riguarda l'impressione artistica che sono riuscite a dare, quindi 25.900 l'esecuzione, 34.533 l'impressione artistica, 25.900 la parte delle difficoltà. Andiamo avanti, gruppo sportivo delle Fiamme Oro, Enrica Piccoli e Francesca Zunino. Enrica Piccoli viene dalla Zeus Montebelluna, è nominata proprio sulla sua spinta. L'ho fatta apposta, non era casuale. Enrica Piccoli quindi della Zeus Montebelluna e Francesca Zunino della Rarinen Sessabona. Il tema è Suicide Squad. Esercizio che avevamo avuto modo di apprezzare al campionato estivo già del 2019, ma ovviamente poi le routine vengono riviste, rivisitate e ovviamente migliorate nella esecuzione, nell'interpretazione, nelle difficoltà. Un pezzo che sia anche chiaro a chi ci sta seguendo, a chi è a casa, quanto si è cambiato in modo repentino dopo le prime sette coppie, il livello si è andato subito su di netto. Un pezzo che si è andato subito su di netto. Coppia che ha da difendere, un posto importante. ottimo lavoro di campionato. Sono molto equilibrate, stanno bene insieme. E dicevano hanno un posto importante da difendere, la passata stagione sono state seconde sia al campionato invernale che al campionato assoluto estivo e come per le coppie che abbiamo detto prima hanno momenti diversi di impegni per le nazionali, assolutamente Enrica è impegnata per la qualificazione olimpica, invece Francesca ha in tutto il tour delle World Series come abbiamo detto prima per le altre colleghe, ecco la spinta che avevi nominato all'inizio di Enrica e quindi anche per loro il tempo di prova è molto ridotto, quindi si cerca di ottimizzare il tempo a disposizione e di mantenere le posizioni conquistate con fatica negli anni passati. Loro c'erano già riusciti nell'eliminatorio con una seconda posizione, adesso vedremo che punteggio riusciranno ad avere. È 88, possiamo anticipare? No, non lo anticipiamo. Vedete le tecniche di spinta, la ragazza ha sfiorato il fondo, Francesca ha sfiorato il fondo nella fase di spinta finale ma non lo ha utilizzato per effettuare la spinta, altrimenti sarebbe una penalità di due punti molto gravi e difficile da rincorrere. Enrica era l'atleta sulla destra dello schermo e sulla sinistra invece nel bacio. Allora 88 e 767, 26 e 900 nell'esecuzione, nella impressione artistica 35 e 467, un ottimo punteggio.